Ho creato questo murale materico per l'angolo del bar all'interno di una pizzeria. Vuoi sapere che cosa rappresenta e come è nato questo progetto? Leggi la descrizione sotto il video e fammi sapere nei commenti se rende l'idea e cosa ti trasmette. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.